Un doppio percorso, il tema è Viva la Cultura. Da un lato è la cultura con cui siamo cresciuti, degli Stefano Benni, di Starnone, della televisione, da Pippo Baudo, Carlo Conti, anche loro, a quella di Gadlerner, Flores, Vianello, dal Trio Medusa, agli spettacoli di Antonio Rezza e ai laboratori di Dario Fo. E dall'altra invece è una sorta di cittadella dell'innovazione, la Rocca Polina, dove oltre 100 web series verranno presentate con circa 300 creativi che saranno a Perugia. Con star del mondo del web come i The Pills, oppure Claudio Di Biagio, di Fricks, diciamo non aprite questo tubo. Praticamente è un programma che in qualche modo lega la cultura tradizionale all'innovazione, che cerca di trasformare il festival in una sorta di laboratorio, più che nella presentazione semplice di programmi, di programmazione, e che quindi diventa un modello un po' diverso. Ci sarà poi il racconto di questo festival, sarà fatto poi anche grazie alla presenza di Caterpillar, del Ruggito del Coniglio, di Hollywood Party, cioè di trasmissioni radiofoniche, che proprio da Perugia andranno in onda raccontando che cosa sia vivere di cultura, che cosa sia la cultura viva. È un palinzesto perché a differenza di un programma tradizionale, il nostro programma di immaginario alterna spettacoli on stage, cioè sul palco del Teatro Morlachi, a delle trasmissioni on air, cioè in diretta da Perugia. E quindi di fatto la nostra platea diventa non solo i 500-600 ospiti del Teatro Morlachi, ma non so, 1.800.000 persone che ascoltano tutte le mattine il Ruggito del Coniglio. E quindi siamo, come dire, in diretta, on air in tutta Italia, da Perugia, e quindi, come dire, assume proprio una forma diversa il festival.